L'Expo non è nutrire il pianeta, è nutrire gli amici degli amici, le solite cricche, gruppi industriali che poi finanziano le fondazioni, che finanziano i partiti politici, cioè questo circolo vizioso deletereo che occorre spezzare definitivamente, creando una importantissima crisi di governo che a nostro avviso si potrà creare vincendo gli europei, per cui è importantissimo perché le elezioni europee hanno a che fare anche con gli scempi che avvengono sul territorio nazionale. Ciao a tutti!